Riapre il supermercato del Centro Universo di Silvio Marina. La grande distribuzione alimentare così è salva e con essa i posti di lavoro di 25 impiegati, che sono stati momentaneamente riconfermati, saranno in prova per sei mesi. Anzi, i dipendenti sono aumentati grazie al lavoro stagionale. Sono stati incrementati i posti di lavoro grazie anche al fatto che oltre a questa apertura la Maiora e l'insegna d'Espar in Abruzzo sta proseguendo un programma di investimenti e di nuove aperture che durerà fino alla fine dell'anno con tantissimi punti vendita sia in franchising e sia come gestione diretta della Maiora, tutte a marchio d'Espar, Eurospar e Interspar. Il centro commerciale era rimasto sprovvisto del supermercato per diversi mesi. Il titolare esprime soddisfazione per la nuova gestione. Oggi sono con noi per due motivi importanti. Il primo, forse il più importante, come ha detto lei, è che la famiglia Cannillo, gruppo d'Espar, con questa operazione ha deciso di salvare tutti i posti di lavoro, anzi di incrementare i posti di lavoro che c'erano rispetto a prima. Quindi questo è un grande successo sia per il centro ma soprattutto per il territorio. Seconda cosa è che per me è anche un orgoglio essere nazionalisti, avere un gruppo totalmente made in Italy. Nulla da temere per i consumatori cattolici. Cassi e scaffali infatti sono stati benedetti dal Vescovo di Teramo in persona. È anche un segno che la vita riprende e dunque anche il momento commerciale, economico, finanziario è molto importante. È la presenza della Chiesa e il graveo importante proprio per sollecitare tutti a guardare avanti con fiducia.